Hello a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Mastasicol6 e oggi siamo ancora nella penultima parte dello spacchettamento dei 10 pacchetti del calciatore Pagni proprio al nostro i 4 pacchetti che adesso farò la conta per vedere chi sceglierò tra tutti i pacchetti e poi si può risolvere, poi non ci ricorda non lo vado a cercare nessun video allora io fudo gli occhi e faccio a PIPPONE a PIPPONE Pocciatodino 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 prima questo, facciamo una città a parabacicicicacordia città che su due modi piacevano la molecola di dottore il dottore si ammalò a parabacicicacchia questo qui c'è lui per ultimo per ultimo partiamo dalla sinistra visto che ieri non si è mai riuscita e poi porta fortuna adesso all'erba io ho visto qualcosa di tale però sicuramente vediamo un vero quanti ci sono e se mi sembra di averlo dicevo già Iva Radovanic la scultura la spezia la spezia e tirare il foglio ok ragazzi un po' che cosa voglio citare un po' che cosa vuoi dare andiamo ad aprire con il secondo un pochettino questo è un po' bello un po' bello una Serge Birincovic Stavici Sanluigi Donna Rumma è fortissimo è la brava della Rumma Andrea Possini potere del suo svuolo che sfortuna e poi la maglietta del che vuoi? la maglietta della tolanta che forse vuoi lo facciamo va bene ragazzi andiamo ad toccare tutto questa roba milic, donna rumba e le magliette qua ci sono anche i due pacchetti che dovremo aprire domani e qua andiamo ad aprire i nostri pacchetti, visto che ce l'abbiamo già portata in mano andiamo nella squadra dell'Atalanta che ce l'ho già vista, è questa qua un'altra doppia raga poi andiamo ad attaccare la maglietta del Verona, del Chievo che è la carta numero 118 118 com'è possibile che hanno fatto la 118 raga vi giuro che è mili che dovrei avere cellogia dovrei frugare o tra le carte che dovrò ancora attaccare o quando è l'album, mi sembra di averlo già attaccato naboli, naboli, dove cacchio è naboli perché ho detto naboli quando in realtà è Chievo Verona però vabbè ok crotone, bologna, Chievo Verona eccolo qua asciuto un pochettino qua ok 118 118 mi è caduto qualcosa un pochettino andiamo ad attaccare la nostra magliettina del del Chievo Verona attaccato benissimo direi anche ok Milik che dovrei aver già oppure dovrò frugare tra le altre carte andiamo su naboli ok è prima della Juve ah no dopo no no M N ah no Milik non ce l'ho non ce l'ho già e va bene andiamo ad attaccare Milik che frugherò tra le carte che dovrò ancora attaccare lì andiamo ad attaccare il nostro numero 99 poi 100 e poi andiamo ad attaccarlo andiamo ad attaccare il nostro carissimo Milik che l'ha attaccato un pochino maliccio adesso andiamo dietro e andiamo ad attaccare il nostro carissimo Donnarummo che c'è anche qua ehm e niente ragazzi questo era il video adesso andiamo ad attaccare ovviamente il nostro portierino fortissimo Giallo Giallo Luigi Donnarumma ah c'è la cona che stavamo volendo la tovaglia mi sono mi sono spaventato vabbè ragazzi andiamo ad attaccarlo anche questo qua il numero 99 del Milo 99 100 ok attaccato malissimo andiamo ad attaccare no perchè si stava strappando tutto vabbè ragazzi andiamo ad attaccare lo spezia anche che ho trovato la squadra intera qua qua si è piegata un po' qua ragazzi adesso andiamo ad attaccare la 701 la 701 ragazzi ragazzi grazie grazie il vostro supporto con i like e anche per la anche per la visualizzazione del nuovo sponsor gajito schifido abbiamo raggiunto i 37 iscritti da 33 a 37 veramente grazie gli iscritti si stanno stanno aumentando quindi ragazzi grazie e dovrei aver raggiunto quasi I 3.000 le 3.000 visualizzazioni in tutto non so adesso andiamo a vedere Comunque abbiamo attaccato è Ok adesso andiamo a vedere le nostre visualizzazioni Le nostre mi piace Le robe varie Andiamo a vedere qua Ok mi è arrivato un messaggio Vabbè non lo vado a controllare perché devo controllare il mio canale 37 iscritti Si dovrebbe vedere qua Qua è sotto la scritta Mazzetta 606 37 si vede Andiamo a vedere Ok 37 iscritti Andiamo a vedere le visualizzazioni E la madonna 3.129 non so se si vede 3.129 Allora ragazzi questo video Spero vi sia piaciuto Come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace Iscrivetevi al canale e attivate la campanella Noi ci vediamo nel prossimo video Qua da Massa Se te lo sai è tutto Bene ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video